scoprirai che l'amore è dare la vita e guardate se in questa missione non vi darete la vita non sarete felici un millimetro sotto la croce non è amore e questo amore non lo fai solo tu ecco perché dall'inizio vi ho detto qui in mezzo ci deve essere Cristo perché voi dovete imparare a guardare lui per amare veramente l'altro non fate l'errore di tanti di voler capire la vita non fate l'errore di chi magari sta lì a voler capire comprendere perché è successo questo non c'è bisogno di capire c'è bisogno di vivere l'amore non va capito va vissuto a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.